Ci siamo, Paolino e Alessandro, Meridian Regional, CrossFit di Cetanova, workout 16.3 Standard, barbell, 10 kg, 5 kg e 2 kg 3, 2, 1, go 3, 5, 6, 7, 8, 10, 4, 1, go 3, 2, 3, 2, 1, go 1, 2, 3, 4, 1, go 3, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 1, go 3, 2, 3, 4, 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 1, go 4, 1, go 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 1, go 6, 8, 10, 1, go 6, 7, 9, 10, 1, go 6, 7, 9, 10, 1, go 6, 7, 9, 10, 1, go 7, 9, 10, 1, go 8, 10, 1, go 7, 10, 1, go uno due tre quattro cinque bravo, vai sei sette otto nove dieci uno due uno e tre bravo sette dai 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 via uno due due quattro cinque rocco dai vai 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 sei sette volto nove nove e dieci dai dai uno due bravo 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 dai 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 uno due tre dai dai cinque bravo dai 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 uno un vi ai un Come on, come on, come on!